Arriva al Teatro Eschilo di Gela domani sera la commedia musicale Incanto di Natale è una rivisitazione in chiave comica e moderna addirittura di un'opera di Dickens Sì, è la rivisitazione di The Christmas Carol di Dickens una commedia diciamo alla portata di tutti, di tutte le fasce di età e di status sociale abbiamo deciso insieme a Orazio di proporre questa commedia proprio perché vogliamo passare una serata dopo tante preoccupazioni e situazioni che sono accadute da qualche giorno oggi gravi vogliamo passare una serata in allegria Qual è la trama? È la storia di un vecchio taccagno, uno spilorcio, un vecchio inglese che ha perso lo spirito del Natale e con l'aiuto appunto di tre spiriti che gli faranno fare un viaggio nel tempo ritroverà il tanto perduto spirito del Natale Orazio, i componenti del cast sono addirittura 25 tra cantanti, attori, musicisti e ballerini una grande organizzazione Sì, questa volta abbiamo voluto superare noi stessi voglio ringraziare soprattutto i Jowl Rock Band sono un gruppo nati da poco bisogna dare un po' di visibilità anche a chi non ne ha mai avuta infatti nel cast siamo forse due o tre quelli che già conosce e la cosa importante è proprio dare spazio a chi non ne ha mai avuto soprattutto chi ha le prime armi quindi noi che abbiamo esperienza è giusto dare del nostro a chi non ne ha mai fatta quindi un modo insomma anche per mettersi in gioco per vivere un'esperienza condivisa di emozioni diamo l'appuntamento a tutti gli amici che ci stanno seguendo da casa perché l'ingresso è libero, assolutamente gratuito ricordiamo l'orario e il luogo quindi domani sera al Teatro Eschilo ore 21, ingresso gratuito vi aspettiamo numerosi insomma per quello che il teatro può ospitare